C'è un carabiniero a mezzanotte, esce dal paesino, viene fermata la polizia, la dico veloce. Il poliziotto dice, dopo me, ma non ce li ho. Allora dice, senta, io sono il comandante della stazione dei carabinieri del paesino qua di fronte, sono stato alla festa del sindaco, ho bevuto, devo essere sincero, non mi fate la prova del palloncino, sto tornando in caserna. Il poliziotto dice, vabbè, vada. Dopo un po' ho un'altra paletta della polizia, dice, esce, tu ti ammettano, vedi che pazzesco, si fermi. Senta, io sono il comandante della stazione dei carabinieri del paesino qua di fronte, ho bevuto, devo essere sincero, ho bevuto. Sono stata alla festa del sindaco di questo paese, sto tornando in caserna, non mi fate la prova del palloncino, mi piace che mi sia tutto ombrello, vabbè, vada. Ma appena penso, vabbè, si riparte. Sai quando le disgrazie non vengono mai da solo? Terza paletta della polizia, dice, ah, non è possibile, la terza volta che mi fermo. Poi si ferma, sta cosendo, io sono il comandante della stazione dei carabinieri del paesino qua di fronte, sono stato alla festa del sindaco di questo paese, ho bevuto, non mi fate la prova del palloncino, sto tornando in caserna. Il poliziotto lo guarda e fa, sì, marescia, l'abbiamo capito, però mi piace, esci dalla rotatoria, che cazzo. Grazie.